Buongiorno da Gilda TV. Un incontro importante è quello che si è tenuto ieri a Roma tra i sindacati della scuola CGL, CISL, Willis, NAS e Gilda. Sindacate uniti sulla necessità di cambiare radicalmente il DDL sulla scuola presentato dal governo e i rappresentanti politici nettamente divisi tra maggioranza e opposizione. I sindacati hanno sintetizzato in tre punti le priorità di intervento sulla scuola, stabilizzazione dei precari, contratto di lavoro, ruolo del dirigente scolastico e hanno annunciato mobilitazione a partire dalla manifestazione a Roma del 18 aprile fino a un eventuale blocco degli scrutini. L'On. Puglisi, responsabile scuola del Partito Democratico, ha sottolineato la necessità di intervenire sulla scuola per sanare la piaga della dispersione scolastica che ha raggiunto il 17%. Il testo del DDL ha aggiunto può essere migliorato ma invita a non alzare un muro di no. Giancarlo Giordano, Selle, parlando dell'iter parlamentare del DDL, ha sottolineato che per una riforma importante come quella della scuola bisogna parlare senza escludere nessuno e proprio per questa ragione si dichiara contrario ad un'eventuale accelerazione dei tempi per l'approvazione della legge. Silvia Chimenti, Movimento 5 Stelle, ha sostenuto che non accetta il ricatto del governo sui tempi di approvazione del DDL e comunica che il Movimento 5 Stelle ha chiesto uno spacchettamento della riforma, prima la risoluzione del precariato e poi tutto il resto. Laura Marsilio, di Fli, sottolinea che si è perso tempo per incardinare il DDL perché non si è seguito l'unico metodo giusto, cioè la concertazione con le categorie e le parti sociali. All'incontro con i parlamentari è seguito nel primo pomeriggio, sotto una pioggia battente, un breve settino dei precari in piazza Montecitorio. Al fine di farvi un'idea precisa sulle varie posizioni sulla riforma della scuola, Gilda TV vi propone gli interventi integrali dei politici, iniziando con quella dell'onorevole Francesca Puglisi. L'aula stracolma di partecipanti all'incontro non ci ha consentito di curare l'aspetto tecnico delle riprese, ce ne scusiamo.